Con Maurizio Lepore parliamo di questa iniziativa La Donna nella Moda, un'iniziativa importante, anche originale, si parla di moda, di donne, ma non so. Siamo un istituto che fa formazione nell'ambito della moda, per cui era occasione importante per far vedere come crescono i nuovi talenti anche in questo ambito. Importante ovviamente coinvolgere i giovani ragazzi della vostra scuola. Noi facciamo molta ricerca e innovazione, quindi abiti un po' fuori dal comune, molto innovativi, molto particolari. Per far vedere infatti che c'è comunque continua ricerca per migliorare il prodotto moda, per far vedere lo stile italiano all'estero, perché poi noi siamo un istituto internazionale, tanti studenti vanno anche all'estero e quindi portano il buon nome dell'Italia anche fuori. Con Tiglio Carota, fashion designer, parliamo di questa iniziativa da un punto di vista più prettamente artistico e tecnico. Che abiti oggi sono in mostra, di cosa vi occupate in particolare? Abbiamo organizzato un workshop che parla in realtà di tutta quella che è la parte creativa della moda, quindi da tutte le coincidenze artistiche fino a quella che è la parte invece di comunicazione per la moda, perché nell'ultima parte faremo un workshop che è dedicato quasi esclusivamente allo shooting fotografico e alla divulgazione attraverso i social, le media. Grazie.